Il fondo di solidarietà è una misura di sostegno che l'Università di Siena mette a disposizione delle studentesse e degli studenti che si trovano in situazioni personali o familiari di difficoltà ed è anche pensato per affrontare tutte quelle circostanze imprevedibili che possono dar luogo ad un cambiamento improvviso delle proprie condizioni. Il fondo prevede un esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie, incluse eventuali more, e fa riferimento non solo alle tasse dell'anno accademico in corso, ma anche alle tasse degli anni accademici precedenti. Il bando per l'assegnazione del fondo viene pubblicato ogni anno, di norma tra marzo e aprile, e contiene tutte le informazioni utili relativamente al fondo, incluse le date e le scadenze entro cui presentare la tua candidatura. Ecco le cose fondamentali che devi sapere. La presentazione della domanda avviene tramite segreteria online Unisi, pertanto accedi alla tua area riservata e segui il percorso Incentivi, Premi allo studio, Borse. Ti sarà richiesto di allegare in un unico file la documentazione che attesti la situazione di difficoltà che stai vivendo. Un ultimo passaggio obbligatorio e quindi da non dimenticare è la stampa definitiva. Dopo aver caricato la documentazione richiesta ricordati di cliccare su stampa ricevuta definitiva. Solo allora la tua candidatura risulterà effettiva. Subito dopo la scadenza le domande saranno valutate da un'apposita commissione che analizzata la documentazione valuterà se e in quale misura concedere il sonero richiesto. Sarà l'ufficio Borse e Incentivi allo studio dell'Ateneo a comunicarti per email l'esito della tua candidatura. Concludo questo breve video rispondendo ad alcune delle domande che potresti porti. Se hai già ottenuto l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, ad esempio perché vincitore di una borsa del DSU Toscana, non puoi candidarti per il fondo di solidarietà. Se hai presentato la tua candidatura al fondo di solidarietà, il pagamento delle rate delle tasse universitarie rimane congelato sino all'esito finale dei lavori della commissione. Quindi, fino a che non ti sarà comunicato se sei risultato o meno beneficiario dell'esonero, non devi pagare le rate in scadenza. Se hai presentato domanda al fondo per ottenere la copertura totale dal pagamento delle tasse relativi all'anno académico in corso, puoi iscriverti agli appelli solo se hai pagato la prima rata, incluso il bollo e il contributo regionale. Per ogni altra domanda o informazione puoi rivolgerti all'ufficio Borse e Incentivi allo studio, telefonicamente o contattandoli per email.